l'architettura gotica è quella fase dell'architettura europea caratterizzata da particolari forme strutturali ed espressive in un periodo compreso fra la metà del dodicesimo secolo e in alcune aree europee i primi decenni del sedicesimo secolo l'architettura romanica viene definita policentrica cioè senza una regione europea che essa si possa definire come più rappresentativa mentre è possibile identificare una località e un padre dell'architettura gotica mi riferisco alla ricostruzione del coro dell'abbazia di san denis a 20 chilometri da parigi iniziata nel 1137 e terminata nell'anno 1144 per opera della batte suger generalmente considerata come l'inizio di questo stile che da lì a poco si diffonderà prima nelle diocesi dell'île de france e poi nel resto della francia in inghilterra e nel resto d'europa incontrando resistenze significative solo in italia uno stile caratterizzato dall'uso intensivo di tecniche costruttive già usate come l'arco a sesto acuto e la volta a crociera ma in un sistema coerente e logico e con nuovi obiettivi estetici e simbolici nel 1140 l'abbate suger decide di ricostruire il coro e la facciata di san denis l'abbazia benedettina che conservava le reliquie del patrono di parigi san di origi l'abbate volle ricostruire la sua abbazia progettando un nuovo coro con una serie di cappelle radiali a forma trapezo idale direttamente collegate a un deambulatorio che permetteva ai fedeli di muoversi liberamente anche dietro il coro le cappelle radiali erano coperte da volta a crociera e sulle pareti si aprivano ampie finestre che davano una grande luminosità allo spazio interno le vetrate colorate rendevano l'atmosfera interna soprannaturale il gotico vuole stupire convincere e inibire ed è l'espressione del potere religioso dell'epoca il termine gotico viene coniato nel 1500 in riferimento a barbaro si acquisisce quindi in periodo rinascimentale e in senso dispregiativo come appellativo per quelle architetture realizzate con principi privi di criteri di sintesi tra le parti tutta l'architettura gotica era pertanto considerata espressione di un linguaggio poco raffinato e incurante dei fondamentali concetti di proporzionalità e risultava essere generatrice di organismi in genere poco armonici la novità più originale dell'architettura gotica è la scomparsa degli spessi muri tipici del romanico il peso della struttura non veniva più assorbito dalle pareti ma veniva distribuito su pilastri all'interno e nel perimetro coadiuvati da strutture secondarie come archi rampanti e contrafforti lo svuotamento della parete dai carichi permise la realizzazione di pareti coperte da magnifiche vetrate istoriate la cattedrale più alta costruita è quella di bovè le cui volte raggiungono un'altezza di ben 48 metri e mezzo la cattedrale di notre dame di parigi ne misura 33 strumenti essenziali per questo sviluppo aereo furono l'uso massiccio dell'arco a sesto acuto che permette di scaricare il peso generando minori spinte laterali rispetto ad un arco a tutto sesto oltre alle minori spinte laterali rispetto all'arco classico a tutto sesto quell'acuto presenta una decisiva serie di vantaggi che gli architetti gotici hanno saputo sfruttare con grande senso pratico ed estetico e che derivavano dal suo particolare schema geometrico esso infatti è costituito dalla intersezione di due archi di cerchio aventi lo stesso raggio cosicché con la medesima curvatura è possibile realizzare archi con differente ampiezze e altezze tutto ciò si rivela decisivo nell'adozione della volta crociera oggi vale inoltre troviamo i pinnacoli o guglie collocati in posizioni strategiche sui contraforti elementi di cui oltre all'indubbia valenza estetica si è riconosciuta una preziosa valenza strutturale in quanto riescono a ridurre le tensioni provocate localmente dalle spinte del vento e delle volte e a verticalizzare in modo significativo la direzione di queste ultime a vantaggio di statica nell'immaginario collettivo l'architettura gotica è soprattutto quella che ci ha condotto alle maestose cattedrali ricche di guglie e pinnacoli arditi archirampanti e contraforti gocciolatoi mostruosi che sporgono invadenti dalle superfici decorate e dalle ampie vetrate coloratissime e in effetti nessun'altra manifestazione architettonica è più esplicita del gotico nel mostrare l'arditezza della tecnica il virtuosismo costruttivo nell'architettura gotica si ha una spazialità dinamica che si sviluppa in una ascensionale verticalità delle forme spinte fino all'inverosibile tale propensione si associerà ad una volontà di tensione dell'anima dio e ciò costituirà la base del significato simbolico delle cattedrali gotiche i caratteri generali del gotico d'oltre alpe mostrano archessest acuto e pilastri esterni detti contraforti resi più forti per contrastare le spinte eccessive sulla loro sommità e si ergono archi rampanti atti a sostenere la spinta laterale dell'arco a sesto acuto l'arco rampante diviene anche un elemento decorativo ricorrente dell'esterno delle cattedrali gotiche come del resto i tipici elementi architettonici a cono o piramide molto acuta chiamati guglie o pinnacoli posti sui contraforti guglie e pinnacoli trovano posto anche lungo gli archi rampanti e sugli spioventi del tetto le volte a costoloni e il sistema degli archi rampanti permise una progressiva riduzione delle masse murarie che non dovevano più assolvere al ruolo di struttura portante nelle cattedrali gotiche il tiburio posto all'incrocio fra navate transetto assume la forma di una torre che spesso termina con una lunga e grande guglia a volte anche altre due torri svetterano di sopra le navate laterali un rosone molto ampio e posto sopra l'imponente ingresso della navata centrale essendo infatti riusciti i costruttori gotici a realizzare adeguati pilastri sempre più sottili liberano ampie superfici da destinare alle vetrate storiate dai colori che si accendono alla luce pare che la luce che filtra illuminando le immagini sacre ne denunci una origine divina contribuendo in modo significativo all'indottrinamento dei fedeli l'arco rampante è un elemento architettonico usato per contenere e distribuire al suolo spinte laterali e verso l'esterno delle parti superiori dell'edificio l'arco rampante controbilancia le spinte laterali di altre strutture spingenti come archi e volte frazionando in modo graduale le spinte orizzontali fino ad annullarle si favorisce così l'elevazione dell'edificio contenendo le energie di spinta e si permette in tal modo alla costruzione di innalzarsi in uno slancio verticale altrimenti impossibile da realizzare in un edificio semplice in muratura l'arco rampante partecipò in modo prepotente alla definizione estetica formale dell'architettura gotica le facciate delle cattedrali d'oltre Alpe si presentano con un sistema a vestiwerk costruzione architettorica tipicamente medievale di epoca carolingia il vestiwerk è un termine tedesco che letteralmente significa opera occidentale ma in altre lingue si usa sia il termine tedesco che il termine francese avant-corp il vestiwerk si presenta come un grande corpo a più piani protetto ai fianchi da altre torri mascherate da campanili il complesso veniva aggiunto sul lato ovest di basiliche e cattedrali spesso superandole in altezza e fungeva esternamente da ingresso laterale e facciata nella facciata torri tronche possiamo notare l'esterno dell'edificio caratterizzato dalla presenza di due torri campanarie sulla facciata principale i campanili sono privi di cuspide elemento architettonico piatto di forma triangolare con funzione decorativa invece presenti nell'altro esempio di facciata il 12 ottobre 1160 il teologo Maurice de Sully divenne vescovo di Parigi e promosse subito la costruzione di una nuova e più ampia cattedrale la città infatti oltre a essere diventata con Filippo I capitale del regno di Francia era anche un importante centro economico e culturale il nuovo edificio sarebbe sorto in stile codico che si era già affermato in Francia con la costruzione della basilica di Saint Denis e delle cattedrali di Saint di Nuoyon e di Laon la chiesa avrebbe avuto una pianta con cinque navate senza cappelle laterali ad eccezione di tre cappelle radiali il progetto non si limitava solo alla nuova chiesa ma si estendeva anche a un'area circostante infatti prevedeva l'apertura in una grande piazza di fronte alla cattedrale raggiungibile da una strada più larga per agevolare l'accesso dei fedeli nonché la ricostruzione del palazzo Vescovile l'edificazione dell'edificio venne finanziata sia dalla chiesa sia dalla corona di Francia e lavorarono al cantiere molti cittadini prestando la loro opera come fabbri, muratori e carpentieri la cattedrale di Notre Dame o più semplicemente Notre Dame è il principale luogo di culto cattolico di Parigi cattedrale dell'Arcidiocesi di Parigi la cattedrale ubicata nella parte orientale dell'Ile de la Cité nel cuore della capitale francese rappresenta una delle costruzioni gotiche più celebri del mondo ed è uno dei monumenti più visitati di Parigi in base alla legge francese sulla separazione tra Stato e Chiesa del 1905 l'edificio è proprietà dello Stato francese come tutte le altre cattedrali fatte costruire dal Regno di Francia e il suo utilizzo è assegnato alla Chiesa Cattolica la cattedrale Basilica minore dal 27 febbraio 1805 è patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1991 la cattedrale parigina si presenta in uno stile non ancora del tutto maturo ancora con elementi di derivazione romanica tra cui soprattutto le colonne cilindriche la zona vata infatti non risulta slanciata e luminosa come quella delle cattedrale del gotico maturo in cui i pilastri polistili permettono la presenza di volte più alte e di grandi vetrate un elemento architettonico peculiare della cattedrale di Parigi sono gli archi rampanti secondo alcuni autori qui sperimentati per la prima volta secondo altri invece sarebbero stati già utilizzati nella chiesa abbaziale di Saint Germain de Pré poco distante da Notre Dame il cui coro venne consacrato nel 1163 da Papa Alessandro III la cattedrale ha pianta croce latina con trazzetto poco sporgente profondo coro terminante con un abside semicircolare e cinque navate le quattro navate laterali si congiungono intorno all'abside formando un doppio deambulatorio le cinque navate sono voltate a crociera le statue orripilanti poste nei vari angoli della cattedrale parigina sono prevalentemente decorative e di certo non hanno alcun legame con esoterismi o misteri di alcun genere quello che colpisce è la fantasia creativa di chi ha realizzato queste figure così mostruose poste poi sulla sommità della cattedrale questi 54 mostri apparentemente a guardia lungo il perimetro della cattedrale in realtà non sono altro che ornamenti decorativi delle grondaie infatti gargoyle al femminile francese significa grondaia resta comunque il fascino di queste figure aggiunte alla fine dell'ottocento dall'architetto Eugène Violet Leduc queste figure demoniache tradizionalmente preso dalle sacre scritture e dall'universo pagano e posizionato a guardia del tempio assumono qui un altro interessante significato Eugène Violet Leduc con queste figure ha voluto demonizzare le sue ossessioni in una Parigi probabilmente grigia dell'ottocento di fatto furono fonti di ispirazione anche per lo scrittore e poeta Victor Hugo noto per le sue opere letterarie romanticamente malinconiche queste figure misteriose altro non sono che l'immaginario di una classe sociale vista come Barbara dalla borghesia baricina i mostri non sono altro che delle decorazioni seppur spaventose ma che non hanno nulla a che fare con la cattedrale in senso simbolico la bruttura che rappresentano è solo la caricatura dei francesi non integrati o meglio non borghesi e autolocati nella Parigi dell'ottocento c'era una certa distinzione tra classi la borghesia era quella che dominava e si sentiva minacciata da questa barbara invasione in effetti Parigi vanta una delle maggiori espansioni urbanistiche proprio sul fine dell'ottocento è quindi illecito pensare che migliaia arrivarono dalla provincia verso la città per fare un parallelo possiamo paragonarlo alle ondate degli immigrati che arrivano oggi in Europa con tutti i possibili sviluppi e problemi sociali nel tanto pomeriggio del 15 aprile 2019 un incendio colpì la cattedrale di Notre Dame l'evento ha provocato all'edificio danni significativi tra cui il crollo della flash e del tetto e ha causato il ferimento di tre persone due agenti di polizia e un vigile del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme furono lunghe ore di impotenza durante le quali le fiamme divoravano le antiche e preziose strutture e linee della cattedrale che non sarà mai più quella di prima escluso il movente criminale l'atto vandalico peggio ancora più quello terroristico stando il vigile del fuoco le cause dell'incendio sarebbero legate al lavoro in corso e sarebbero quindi accidentali secondo i primi elementi dell'indagine le fiamme sono partite dall'impalcatura usati per il lavoro del restauro partiti un anno prima e che sarebbero dovute andare avanti fino al 2022 la struttura in muratura è complessivamente salva anche se molto danneggiata gli arei di sacri e le opere d'arte conservate all'interno della cattedrale si sono per la maggior parte salvate si sono salvate anche 16 statue del tetto che erano state rimosse per essere restaurate solo pochi giorni prima le strutture in pietra sono state risparmiate due oggetti estremamente importanti per i cattolici sono stati salvati la tunica di San Luigi e la colonna di spine di Cristo quella che i soldati romani avrebbero posto sulla testa di Gesù prima della crocifissione riguardo le vetrate alcune sono state danneggiate e infine è rimasto integro il rosone principale risalente al 1260 è considerato una delle opere più preziose della cattedrale tutto il mondo e non solo la Francia è rimasto per ore in apprezzione e appianto per lo storico monumento la cattedrale di Notre Dame di Châtre è una chiesa cattedrale consacrata alla Vergine Notre Dame appunto situata a Châtre nel nord-ovest della Francia a 95 km a sud-ovest di Parigi è il più celebre monumento della città ed è considerata uno degli edifici religiosi più importanti del mondo e uno dei più perfetti edifici gotici il fattore decisivo che la fa prevalere tra le altre cattedrali francesi è il suo buono stato di conservazione l'edificio costruito dal vescovo Fulberto fu distrutto nel 1194 a causa di un incendio e immediatamente si iniziarono i lavori di ricostruzione che durarono circa 60 anni l'interno presenta una navata alta 37 metri l'edificio si riconosce facilmente a causa della grande differenza tra le sue due torri la torre sud è dotata di una base tipicamente gotica e sormontata da una guglia molto semplice la torre nord costruita in epoca più tarda è di architettura più complessa grande luogo di pellegrinaggi questa cattedrale e le sue torri dominano la città di Châtre risultando visibili da molte decine di chilometri di distanza nel 1908 è stata insignita del titolo di basilica minore e nel 1979 l'UNESCO la dichiarata patrimonio culturale dell'umanità all'interno viene conservato il velo di Maria secondo la tradizione questo velo è la camicia che portava Maria al momento dell'annunciazione questa importante reliquia fu meta di numerosi pellegrinaggi durante l'incendio della vecchia chiesa nel 1194 si credette che la reliquia fosse andata ormai perduta ma venne ritrovata intatta questo fu interpretato come il fatto che la Vergine Maria desiderava una chiesa più grande per la sua reliquia e così si spiegano l'entusiasmo e la rapidità con cui la nuova cattedrale fu ricostruita il velo è sempre esposto nel deambolatorio il labirinto di Shattr opera del XII secolo è una figura geometrica circolare iscritta in larghezza sul pavimento della navata centrale rappresenta un percorso continuo lungo 261 metri e mezzo che va dall'esterno all'interno del cerchio con una successione di curve e archi di cerchi concentrici una delle sue particolarità è che i percorsi sia dal centro che dal perimetro presentano la stessa successione di curve e archi alcuni pensano che il labirinto rappresenti un cammino simbolico che porta l'uomo dalla terra a Dio e il centro della figura rappresenta appunto la città di Dio il percorso del labirinto non consiste solo nell'andare verso il centro ma anche nel ripartire da lì il labirinto ha un'area pari a quella del rossone centrale la pianta è acrocelatina internamente la navata centrale si divide su tre livelli arcate triforio e parete superiore finestrata il primo livello è caratterizzato da archi e sesto acuto che sostengono il triforio secondo livello e nella parte superiore si trova la parete sulla quale compaiono le finestre con sopra un rosone che forniscono luce all'interno tale finestre presentano dei vetri colorati piuttosto spessi ma accentua la bellezza delle vetrate e delle luci colorate che filtrano da esse all'interno della cattedrale è possibile visitare due cripte concentriche una interna e una esterna questo è dovuto al fatto che nel passato si sono succedute diverse costruzioni della stessa cattedrale la cattedrale della santa croce e santa eularia situata nel barrio gotico quartiere gotico è la cattedrale sede dell'arci di ocesi di barcellona insegnita nel 1867 dal titolo di basilica minore la cattedrale è dedicata alla santa creu la santa croce e santa eularia la patrona di barcellona festeggiata il 12 febbraio la quale subì il martirio in epoca romana la cattedrale fu costruita in stile gotico tra il tredicesimo e il quindicesimo secolo sui resti di precedenti chiese il primo edificio fu una basilica paleocristiana a trenavate con un battistero a pianta quadrata posto di fronte rimase intatta durante l'invasione dei visigoti forse fu trasformata in una moschea durante l'occupazione musulmana della città ritrasformata in stile romanico fu consacrata nel 1058 più piccola dell'attuale era anch'essa trenavate con tre absidi soprallevate un portico nella facciata e un campanile la costruzione dell'attuale edificio intesa come ristrutturazione e ampliamento della chiesa romanica iniziò nel maggio del 1298 durante il regno di Giacomo II d'Aragona per continuare fino alla metà del quindicesimo secolo senza che la chiesa venisse mai chiusa per questo motivo mantenne lo stesso asse della chiesa romanica fu solo nel 1460 che l'edificio principale della cattedrale venne terminato la facciata gotica fu costruita molto più tardi nel 1889 e la parte più recente la guglia centrale della cattedrale fu completata nel 1913 all'interno della cattedrale sono conservate varie statue e cappelle dedicate a più di 140 santi a Santa Eulalia programmata patrona della città per aver subito il martirio in epoca romana a lei è dedicata una cripta che si trova proprio sotto l'altare maggiore costruita nel 14 secolo dall'architetto Jean Fabre conserva oggi l'antico sepolcro di Santa Eulalia e l'eccezionale sarcofago gotico di Anabasturo Policromo in cui riposano i resti della Santa un altro degli elementi più interessanti dell'interno della cattedrale è il coro all'interno si trova un pulpito interseato in legno del 1403 uno dei più raffinati esempi di scultura gotica catalana in questa slide possiamo vedere un dettaglio della navata centrale e un dettaglio del tipico pilastro a fascio nel cortile centrale del monastero sono sempre presenti 13 oche ogni oca rappresenta un anno di vita della martire Santa Eulalia una giovane ragazza che fu torturata a morte dai romani nel IV secolo a causa della sua religione le oche sono lì a guarda della patrona della città il numero delle oche ricorda i 13 anni della martire ma anche le 13 torture a cui fu sottoposta dai romani la ragazza fu dapprima esposta nuda al pubblico fino a che la neve non la congelò poi fu chiusa in una botta piena di chiodi e vetro e fatta rotolare per la strada che ancora oggi porta il suo nome discesa di Santa Eulalia in seguito fu martoriata nel corpo con amputazioni varie dopodiché crocifissa e infine decapitata a quel punto la storia racconta che una colomba le volò sopra a simboleggiare la sua anima che volava in cielo alcune leggende dicono che la colomba le uscì dalla bocca il sarcofago con il corpo della giovane martire fu nascosto nel secolo ai diversi invasori e infine fu collocato nella cripta della basilica che porta il suo nome le oche fanno la guardia al sarcofago pronte a starnazzare al minimo segno di pericolo la cripta con il laghetto è meta continua di pellegrinaggio di fedeli e vista di turisti incuriositi i festeggiamenti in onore della Santa Patrona della città si tengono nella settimana in cui cade il 12 febbraio in questa slide possiamo vedere la pianta molto complessa della cattedrale di Barcellona quindi un'ampia aula longitudinale con tre navate voltate a crociera un ampio deambulatorio con nove cappelle radiali e sulla sua destra un ampio chiostro dove è presente anche la vasca con le 13 oche il gotico in Italia definito gotico temperato ha caratteristiche che lo distinguono notevolmente da quello del luogo d'origine dell'architettura gotica cioè la Francia e dagli altri paesi europei in cui questo linguaggio si è diffuso cioè l'Inghilterra e la Germania in particolare non viene recepita l'innovazione tecnica e l'artitezza strutturale delle cattedrale francesi preferendo mantenere la tradizione costruttiva consolidata nei secoli precedenti e anche dal punto di vista estetico e formale non trova un grande sviluppo lo slancio verticale quasi statico dell'architettura d'oltre Alpe se da un lato quindi c'era stata un'applicazione precoce di elementi gotici in epoca romanica i rosoni e le volte a Costolone nel nord Italia gli archi a sestacuto di retaggio arabo in Italia meridionale dall'altro la tradizione romanica influenzata dai modelli bizantini paleocristiani e classici resistente al principio dell'annullamento delle pareti questo fu dovuto probabilmente anche a questioni puramente pratiche il clima italiano avrebbe fatto negli edifici coperti di vetrate un effetto serra nei mesi estivi per cui la soluzione preferita fu quella di mantenere strutture in massiccia muratura più fresche sulle quali si stendevano preziose decorazioni ad affresco si ebbe quindi in Italia un compromesso tra romanico e gotico senza eccessivi slanci in altezza e riduzione scheletriche delle masse muralie i primi esempi di abbazie gotiche in Italia sono il complesso di Fossanova nel Lazio o l'abbazia di San Galgano vicino Siena in Toscana gli ordini medicanti molti come franciscani, dominicani e agostiniani sono stati fondamentali nella cospicua fase di inurbamento dei relativi insediamenti in Italia tra la metà del 200 e la metà del secolo successivo fra le note distintive di questi ordini vi era infatti una certa enfasi sulla decorosa povertà e semplicità degli edifici sacri e la necessità di avere ampie navate coperte con tetto a vista in modo tale che i fedeli potessero ascoltare le prediche e seguire i riti senza ingombri visivi come invece avveniva nelle cattedrali di assetto basilicale la basilica di Sant'Antonio di Padova è uno dei principali luoghi di culto cattolici della città di Padova conosciuta dai padovani semplicemente come la basilica del santo è una delle più grandi chiese del mondo e ne fanno uno dei santuari più venerati del mondo cristiano non è comunque la cattedrale della città titolo che aspetta al duomo in essa sono custodite le reliquie di Sant'Antonio di Padova e la sua tomba la piazza del santo antistante ospita il monumento equestre al Gattamelata di Donatello lo scultore realizzò anche sculture bronze crocifisso della basilica del santo statue e formelle di varie dimensioni la basilica è retta dai francescani dell'ordine dei frati minori conventuali l'architetto è sconosciuto probabilmente fu un francescano di genio e di grande cultura architettonica il tempio fu iniziato nel 1232 in onore di Sant'Antonio di Padova e fu compiuto nella sua parte principale sul finire del 1200 se nell'insieme il maestoso edificio mostra un forte influsso della basilica di San Marco in Venezia nelle strutture massicce imponenti e scrittamente romanico mentre l'intera parte absidale, slanciata e con le nove cappelle a raggera appartiene al più puro gotico queste diverse e contrastanti caratteristiche sono fuse in un insieme del tutto originale che a prima vista distingue la nostra basilica da ogni altro tempio medievale l'esterno si presenta quanto mai pittoresco, specie visto dall'abside invece l'interno è caratterizzato da un'austera grandiosità la basilica è caratterizzata da una perfetta armonizzazione di diversi stili la facciata capanna romanica, i contraforti che si sviluppano fino a diventare archi rampanti in stile gotico che in parallelo scandiscono in modo regolare lo spazio e le cupole in stile bizantino e due campanili gemelli che invece richiamano quasi dei minareti gotica eppure la struttura dell'abside con cappelle radiali il complesso delle cupole rievoca non solo la basilica di san marco in venezia ma anche l'architettura romanica francese che a sua volta rimanda a moduli bizantini la cappella contiene il tesoro della basilica composto da numerose reliquie tra cui sono degni di nota la reliquia del mento di sant'antonio e la reliquia della lingua incorrotta del santo sono presenti inoltre numerose preziose suppellettili liturgiche, calici e messali in apposite tecche di vetro sono esposti i resti della ricognizione del corpo del santo effettuata nel gennaio del 1981 frammenti della tonaca del santo le casse in legno contenenti le ossa poi ricomposte nella tomba in un urna di vetro i drappi avvolgenti le casse un'iscrizione nel 1263 attestante la prima traslazione del corpo il 16 luglio del 1228 a soli due anni dalla morte Francesco venne proclamato santo da papa Gregorio IX il giorno dopo il 17 luglio lo stesso pontefice e frate Elida Cortona posero la prima pietra per la costruzione di quella imponente basilica come pattuito l'anno prima fu ben presto chiaro che la nuova basilica sarebbe stata una specialis ecclesia ovvero sia il santuario ospitante le spoglie del santo sia la chiesa madre del nuovo ordine secondo la tradizione fu lo stesso Francesco ad indicare il luogo in cui voleva essere sepolto si tratta della collina inferiore della città dove abitualmente venivano sepolti i senza legge i condannati dalla giustizia forse anche per questo era chiamata Collis Inferni quel colle fu ribattezzato Collis Paradisi e su di esso fu edificata la nuova basilica al margine nord-occidentale della città murata la chiesa che fu uno dei capisaldi della diffusione del gotico in Italia aveva molteplici finalità prima di tutto era il luogo di sepoltura del fondatore dell'ordine che già dopo due anni della sua morte veniva considerato una delle figure più significative della storia del cristianesimo per questo si predispose una dimensione adeguata ad una meta di pellegrinaggio e devozione popolare un secondo ordine di interessi era più strettamente legato al papato che vedeva ormai nei francescani dopo la diffidenza iniziale gli alleati per rinsaldare i legami con i cedi più umili e popolari per questo nella basilica si fusero esigenze legate ai flussi di pellegrini l'edificio rappresentò una deroga alla regola della povertà raccomandata in vita dal poverello di Assisi perché la tomba del santo era destinata a diventare meta di pellegrinaggio per questo si scelse una soluzione architettonica ardita quella di due chiese ad aula unica sovrapposte a questa fu aggiunta nel XIX secolo la cripta dove fu traslato il corpo del santo assieme a quello dei suoi amici e con fratelli la basilica inferiore è destinata alle celebrazioni liturgiche la basilica superiore è lo spazio per la predicazione la preghiera comunitaria e le riunioni ufficiali dell'ordine sia la basilica inferiore sia quella superiore presentano piante luciforme commisse a una navata di grandi dimensioni le campate quadrate sono coperte da volta crociera con archi a sesto acuto ne risulta a entrambi i livelli un grande spazio unico diviso in cinque parti uguali chiaramente leggibili la costruzione della basilica inferiore iniziò nel 1228 sotto la sovrintendenza di Fratelia uno dei primi segueci di Francesco e ministro generale dell'ordine vi si accede dalla piazza inferiore di San Francesco attraverso un elegante portale gotico con rosone che mette nel lato sinistro della navata il protiro sporgente che oggi in cornice copre l'ingresso è di età rinascimentale la basilica superiore presenta all'esterno una semplice faccia da capanna piuttosto slanciata con un grande portale archiacuto bipartito a ricordare la doppia natura di Cristo che è sia Dio ma anche uomo un bellissimo rosone affiancato dai simboli degli evangelisti in rilievo e quasi al centro del coronamento triangolare un semplice oculo circolare il campanile largo ed essenziale è ingentito dalle sene verticali in origine era concluso da un'altra copertura piramidale poi sostituita nel XVI secolo da quella attuale più bassa all'interno la basilica inferiore come suoi corti e possenti pilastri le basse volte costolonate gli archi impostati quasi ad altezza d'uomo mostra chiaramente la funzione di sostegno per la chiesa superiore è un ambiente austero, scuro, dominato dalla massa muraria di gusto ancora marcatamente romanico su un'unica navata si affacciano delle cappelle alcune delle quali rese celebri dai loro preziosissimi cicli di affreschi la basilica superiore si presenta come un'aula magna ampia e spaziosa slanciata e luminosa qui i caratteri architettonici del gotico sono molto più evidenti la navata è attraversata da grandi archi a sesto acuto che si impostano su semi pilastri a fascio acuti sono anche gli arconi che incorniciano le finestre e acute sono le ampie volte a crociera che coprono le campate e scandiscono la navata le ampie e compatti superfici murarie delle due basiliche furono destinate sin dalla fase progettuale ad accogliere cicli di affreschi nella visione artistica francescana le pareti istoriate avevano un ruolo prima ancora didattico che estetico le scene figurate dovevano illustrare al popolo gli episodi della bibbia nel modo più efficace possibile e a raccontare anche la vita di francesco per questo furono coinvolti i maggiori pittori del momento cimabue cavallini e giotto gli affreschi iniziarono nella basilica inferiore con le scene del transetto ad opera del maestro di san francesco 1253 circa seguì probabilmente cimabue che dipinse la maestà nel transetto destro della basilica inferiore la cui buona riuscita spinse i committenti ad affidargli la decorazione del coro e del transetto della basilica superiore tra gli artisti impegnati in queste storie dell'antico e del nuovo testamento spiccò presto un maestro innovatore tradizionalmente identificato col giovane giotto lo stesso maestro si vede poi affidato il ciclo più importante quello delle 28 storie di san francesco anche in questo caso è tradizionale riferimento ai giotto molto probabilmente autore effettivo del ciclo la basilica di Santa Maria Novella è per Firenze il punto di riferimento per un altro importante ordine mendicante i Domenicani nel 1219 12 Domenicani arrivarono a Firenze da Bologna ottennero la piccola chiesa di Santa Maria delle Vigne così chiamata per i terreni agricoli che la circondavano nel 1242 la comunità Domenicana Fiorentina decise di iniziare i lavori per un nuovo e più ampio edificio ottenendo dal Papa la concessione di indulgenze perché avesse contribuito economicamente ai lavori già a partire dal 1246 il progetto secondo le fonti si deve a due fratti dominicani Fra Sisto e Fra Ristoro la chiesa sebbene già conclusa verso la metà del 300 con la ricostruzione dell'adiacente convento fu tuttavia ufficialmente consacrata solo nel 1420 da Papa Martino V che risiedeva in città la chiesa fu la prima basilica dove vennero usati elementi dell'architettura gotica a Firenze l'interpretazione del nuovo stile fu molto originale e fece da esempio ad un gran numero di edifici religiosi successivi è lunga 99 metri e 20 cm larga 28 metri e 20 cm mentre il transetto misura al massimo 61 metri e 54 cm presenta una pianta a croce commissa cioè a T suddivise in tre navate con sei ampie campate che si rimpiccioliscono verso l'altare dando la sensazione di una lunghezza maggiore di quella reale la copertura è affidata alle volte a crociera a costoloni con archi a sesto acuto decorati da pitture parietali bicrome, bianco, verdi sostenute da pilastri polistili cioè a sezione mista l'ampiezza della navate centrale e la sua altezza al limite delle possibilità statiche per un edificio del genere fanno sì che le navate laterali sembrano ariosamente effuse in un'unica amplissima aula la pianta con il transetto spostato molto indietro verso l'abside è a croce commissa e deriva dagli schemi planimetrici delle chiese abbaziali dell'ordine cistercense ha proporzioni allungate con un corpo molto sviluppato in senso longitudinale presenta un colo di forma rettangolare con ai lati due coppie di cappelle l'interno è diviso in tre navate articolate in sei campate quadrate e rettangolari più le cinque del transetto che seguono un sistema di rapporti dimensionali progressivo le dimensioni delle campate infatti diminuiscono man mano che si avvicinano al presbiterio aumentando l'impressione di profondità anticipando un principio illusivo che verrà poi sviluppato nel rinascimento con l'applicazione della prospettiva le volte ogivali a crociera molto slanciate raccolte da pilastri a fascio polistili rendono la navata centrale molto ampia lo spazio interno è illuminato da numerose finestre a monofora aperte sulle pareti esterne e a oculo sulla sommità delle pareti della navata centrale l'interno racchiude capolavori straordinari tra cui la trinità di masaccio gli affreschi del ghirlandaio nella cappella tornabboni il crocifisso di giotto e il crocifisso di brunelleschi la facciata marmoria di santa velenovella è fra le opere più importanti del rinascimento fiorentino pur essendo stata iniziata in periodi precedenti e completata definitivamente solo nel 1920 il primo intervento si ebbe verso 1350 quando il registro inferiore fu ricoperto di marmi bianche e verdi in questa circostanza furono fatti i sei architombali i due portali laterali gotici e forse anche l'ornamentazione marmorea a riquadri e archetti ciechi a tutto sesto fino al primo cornicione che assomigliano a quelli del Battistero di San Giovanni i lavori in seguito si interruppero e durante il concilio di Firenze nel 1439 venne ribadita la necessità di provvedere al completamento della facciata solo un vent'anni dopo si offrì il ricco mercante Giovanni di Paolo Ruccellai che ne affidò il progetto al suo architetto di fiducia, Leon Battista Alberti la basilica di Santa Croce è una delle più grandi chiese francescane è una delle massime realizzazioni del gotico in Italia e possiede il rango di basilica minore essa è il luogo di sepoltura di alcuni dei più illustri personaggi italiani come Michelangelo Buonarroti, Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli, Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo, Gioacchino Rossini ed è per questo nota come il Tempio dell'Itale Gloria la definizione risale al carme dei sepolcri di Foscolo i lavori della basilica provocarono vivace controversie tra i frati tra chi voleva un edificio essenziale e povero, in linea con la regola francescana e chi un'architettura più ampia in ogni caso la nuova chiesa si rese presto insufficiente per cui nel 1294 si decise di ricostruire ex nuovo edificio con un grandioso progetto elaborato probabilmente da Arnolfo di Cambio l'architetto è impegnato in quegli anni nei più grandiosi progetti della città nel 1966 l'alluvione di Firenze inflisse gravissimi danni al complesso della basilica e del convento situati nella parte più bassa di Firenze tanto da diventare tristemente nota come simbolo delle perdite artistiche subite dalla città soprattutto quella quasi distruzione del crucifisso di Cimabue ma anche della sua rinascita dal fango attraverso la capillare opera di restauro e di conservazione l'interno di Santa Croce è apparentemente semplice e altamente monumentale al tempo stesso con tre narrate divise da due file di grandi pilastri a base ottagonale l'interno ampio e solenne ha una forma di croce commissa cioè a t tipico di altre grandi chiese conventuali con un transetto particolarmente esteso quasi 74 metri che taglia la chiesa all'altezza dell'abside poligonale la grandiosa navata centrale segna una tappa fondamentale nel percorso artistico e ingegneristico che condurrà alla navata di Santa Maria del Fiore i muri sottilissimi sostenuti da archi a sesto acuto sui pilastri ottagonali richiamano le basiliche paleocristiane di Roma dove Arnolfo lavorò a lungo ma la scala è molto più grande e i problemi strutturali costituirono una vera e propria sfida alle capacità tecniche del tempo la risoluzione di questi problemi costituì un precedente importante per la grande sfida della costruzione del corpo basilicale della cattedrale cittadina in particolare il ballatoio che corona le arcate e cinge la navata centrale non è solo un espediente stilistico per accentuare l'andamento orizzontale della costruzione e frenare il goticismo allora poco gradito in città ma costituisce un legamento strutturale per tenere assieme le esili membrature e i vasti specchi murari il soffitto a capriate dal gusto francescano richiese un complicato congegno strutturale data l'enorme luce libera e il peso che rischiava di soverchiare le sottili murature arnolfo rispettò in qualche modo lo spirito francescano e disegnò un edificio dell'aspetto apparentemente sobrio e spoglio in realtà le proporzioni grandiose e soprattutto la straordinaria ricchezza dei tesori d'arte ospitate al suo interno ne fanno l'espressione della magnificenza più che della modestia all'interno della basilica di santa croce è davvero sorprendente il numero delle cappelle ma ne sono addirittura dodici nella cappella maggiore troviamo espresso il gotico nelle sue forme più autentiche le finestre strette e altissime la volta ombrello dal profilo acuto il forte slancio verticale la luce delle vetrate storiate in onda lo spazio con una vera e propria fantasmagoria di colori che si aggiungono a quelli magnifici e ancora brillanti delle pitture la sindrome di stendhal utilizzato per indicare affezioni psicosomatiche che si scatenano quando si osservano un'opera d'arte di particolare bellezza deriva dall'esperienza descritta dall'omonimo scrittore francese durante la sua visita alla basilica di santa croce a firenze uscendo da santa croce ebbi un battito del cuore camminavo temendo di cadere da allora sono in molti i visitatori che provano lo stesso stordimento di fronte a tanta straordinaria bellezza santa croce ricostruita per l'ordine francescano nel 1294 dal norfo di cambio è il luogo di sepoltura dei grandi e potenti di firenze rossini e macchiavelli e il pisano galileo galilei che fu condannato dall'inquisizione e che quindi non poteva avere una sepoltura cristiana fino al 1737 ovvero 95 anni dopo la sua morte vi è anche un monumento commemorativo a dante ma il suo sarcofago è vuoto è stato sepolto a rabenna dopo il suo esilio da firenze tra le numerose tombe ospitate a santa croce quella di michelangelo è sicuramente la più famosa fu progettata dal bassari nella seconda metà del cinquecento dopo che le spoglie del grande artista tornarono a firenze da roma si tratta di un'opera totale un tributo la personalità geniale ed eclettica dell'artista davanti al sepolcro le personificazioni della pittura della scultura e dell'architettura sembrano rattristarsi per la sua morte santa croce ospita letteralmente un immenso patrimonio artistico gli affreschi di agnologadi nella cappella maggiore raccontano la storia della santa croce mentre i bellissimi affreschi di giotto nelle cappelle di bardi e peruzzi illustrano le scene della vita di san francesco e san giovanni evangelista un insolito rilievo l'annunciazione in pietra serena dorata e il crocifisso di donatello arricchiscono la basilica molto particolare è un dettaglio legata alla statua la libertà della poesia di pio fedi del 1883 lo scultore pio fedi viene incaricato nel 1870 di omaggiare la tomba del drammaturgo giovan battista niccolini con allegoria della poesia realizza quindi una figura femminile con una corona di otto raggi il braccio destro sollevato e nella mano una catena spezzata il braccio sinistro abbassato culmina con una ghirlanda dall'oro simbolo della poesia la statua della libertà fiorentina così definita è stata inaugurata nel 1883 quella di new york nel 1886 quando pio fedi inizia il bozzetto nel 1870 bartoldi autore della statua della libertà americana è in italia a combattere a fianco di caribaldi nelle file dei franchi tiratori durante la guerra franco prussiana tale similitudine formali con la statua new yorkese ne fanno sospettare una possibile derivazione seppure con esiti formali diversi l'alluvione di firenze del 4 novembre 1966 fa parte di una serie di stralipamenti del fiume arno che hanno mutato nel corso dei secoli il volto della città di firenze avvenuta nelle prime ore di venerdì 4 novembre 66 a seguito di un'eccezionale ondata di maltempo fu uno dei più gravi eventi alluvionali che accaduto in italia e causò forti danni non solo a firenze ma anche a pisa e in gran parte della toscana e in più in generale in tutto il paese la forza delle acque solo in firenze furono apportate dalla piena circa 600 mila metri cubi di fango aveva distrutto una innumerevole serie di ponti reso inagibili molte strade rendendo assai difficoltosa l'opera di primo soccorso l'alluvione fu uno dei primi episodi in italia in cui si evidenziò l'assoluta mancanza di una struttura centrale con compiti di protezione civile i cittadini non furono avvertiti dell'imminente fuoriuscita del fiume tranne alcuni orafi di Ponte Vecchio che ricevettero una telefonata di una guardia notturna che li invitava a vuotare le loro botteghe le notizie furono date in grande ritardo e i media tentarono di sottacere l'entità del disastro per i primi giorni gli aiuti provennero quasi esclusivamente dal volontariato per assistere a uno sforzo organizzato dal governo bisogna attendere sei giorni dopo la catastrofe simbolo dell'alluvione della risurrezione di Firenze è il legno di Cimbabue il legno medievale inzuppato che aveva perso il 70% della sua pittura è stato successivamente sostopposto a un lungo e innovativo restauro che lo ha riportato in parte in vita il lungo lavoro è divenuto esso stesso simbolo speciale di devastazione e restituzione perché non solo ha redatto vita all'opera ma è stato anche l'occasione da cui è nata una nuova metodica di intervento definita astrazione cromatica la gravità delle lacune sommata non solo ha l'importanza storico-artistica dell'opera ma soprattutto ha un nuovo significato simbolico che il crocefisso ha assunto nella tragica esperienza collettiva ha generato singolare capacità di ingegno ai restauratori che si sono resi così capaci di creare una nuova tecnica di restauro poi utilizzata per molti altri dipinti e così il crocefisso Cimabu di Santa Croce è divenuto sempre più il simbolo dell'alluvione e risurrezione dello spirito creativo fiorentino la basilica di Santa Croce è stata anche protagonista dei funerali di Davide Astori capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale di Calcio morto nel sonno per un arresto cardiaco nel marzo del 2018 a termine delle cerimonie per cui si sono radunate in Piazza Santa Croce circa 10.000 persone la salma è stata trasportata a San Pellegrino Terme il paese in provincia di Bergamo in cui Astori era cresciuto per un'ultima funzione religiosa presso la chiesa parrocchiale cittadina la morte improvvisa ha scosso il mondo del calcio italiano ed europeo Astori aveva infatti solo 31 anni una moglie e una figlia di due anni ed era nel pieno della sua carriera iniziata nelle giovanili del Milan e proseguita poi a Cagliari e a Roma era inoltre una regione nazionale italiana per cui aveva giocato 14 partite da titolare per questi motivi era amico, conoscente ed ex compagno di squadra di moltissimi calciatori italiani e stranieri ai funerali erano presenti delegazioni di tutte le squadre di calcio italiane la cattedrale di Santa Maria del Fiore la chiesa parrocchiale, conosciuta comunemente come Duomo di Firenze è la principale chiesa fiorentina simbolo della città ed uno dei più famosi d'Italia quando fu completata nel Quattrocento era la più grande chiesa al mondo mentre oggi è la terza in Europa dopo San Pietro a Roma e Saint Paul a Londra sorge sulle fondazioni dell'antica cattedrale di Firenze la chiesa di Santa Reparata in un punto della città che ha ospitato edifici di culto sin dall'epoca romana la costruzione del Duomo, ordinata dalla Signoria Fiorentina inizia nel 1296 e termina dal punto di vista strutturale soltanto nel 1436 i lavori iniziali furono affidati all'architetto Ornofo di Cambio per poi essere interrotti e ripresi numerose volte nel corso dei decenni da Giotto a Francesco Talenti la dedica a Santa Maria del Fiore avvenne in corso d'opera nel 1412 la pianta ricorda un fiore e il giglio è un simbolo della città la pianta del Duomo è composta da un corpo di basilica trenavate saldato ad un'enorme rotonda triconica che sorregge l'immensa cupola del Brunelleschi la più grande cupola e muratura mai costruita al suo interno è visibile la più grande superficie mai decorata da fresco 3.600 metri quadri eseguiti tra il 1572-1579 da Giorgio Vasari e Federico Zuccheri alla basse della lanterna in marmo è presente una terrazza panoramica sulla città posta a 91 metri da terra dopo la morte di Ornofo di Cambio i lavori si arrestarono a tempo indeterminato nel 1330 il ritrovamento sotto Santa Reparata delle reliquie del venerato vescovo di Firenze San Zenobi diede nuova spinta alla costruzione l'arte della lana nel 1334 affidò la direzione dei lavori a Giotto assistito da Andrea Pisano Giotto si concentrò soprattutto sul campanile che tuttora conserva il suo nome dal 1349 al 1359 la direzione tocca a Francesco Talenti che completi il campanile e prepara un nuovo progetto coadiuvato dal 1360 al 69 da Giovanni di Rappochini nel 1378 fu ultimata la volta della navata centrale e nel 1380 furono terminate le navate minori tra il 1380 e il 1421 furono costruite le tribune e forse anche il tamburo della cupola la facciata di Santa Maria del Fiore fu uno degli elementi più tormentati nella storia della costruzione della cattedrale fiorentina avviata al tempo di Ornofo di Cambio e decorata venne demolita nel 1887 e nonostante i numerosi progetti mai rifatta fino all'800 quando fu messo in opera il progetto di Emilio de Fabris che si vede ancora oggi oggetto di polemiche mai sopite l'opera è oggi un importante esempio di stile neogotico in Italia Palazzo Vecchio si trova in piazza della Signoria a Firenze ed è la sede del comune rappresenta la migliore sintesi dell'architettura civile trecentesca cittadina ed uno dei palazzi civili più conosciuti nel mondo chiamato in origine palazzo dei priori divenne nel XV secolo palazzo della Signoria dal nome dell'organismo principale della Repubblica di Firenze nel 1540 divenne palazzo ducale quando il duca Cosimo I dei Medici ne fece la sua residenza infine il nome Vecchio lo assunse dopo il 1565 quando la corte del duca Cosimo si spostò nel nuovo palazzo Pitti dal 1685 al 1871 fu sede del Parlamento del Regno d'Italia mentre oggi ospita il sindaco di Firenze e vari uffici comunali l'edificio si è gradualmente ingrandito verso est arrivando ad occupare un isolato intero e allungando l'iniziale parallelepipedo trecentesco fino a quadruplicarne le dimensioni una pianta che ricorda un trapezio del quale la facciata è solo il lato più corto la facciata principale dà l'impressione di solidità anche grazie alla finitura esterna del bugnato rustico in pietraforte è diviso in tre piani principali da cornici di marca piano che sottolineano due file di bifore marmore e neogotiche la parte antica è coronata da un ballatoio aggettante sostenuto da beccatelli su archi a tutto sesto è caratterizzato da una merlatura di tipo guelfo con la sommità quadrata mentre la torre ha una merlatura ghibellina o a coda di rondine alcuni di questi archi sono dotati di caditoie che potevano essere utilizzate per scopo difensivo per gettare su eventuali invasori olio bollente o pietre sotto gli archi del ballatoio nel 1353 vennero dipinti una serie di stemmi che simboleggiano alcuni particolari aspetti della repubblica fiorentina e ancora oggi testimoniano la situazione politica trecentesca la serie di nove stemmi si ripete due volte sulla facciata e due stemmi si ritrovano anche sul lato sinistro il primo che si incontra da sinistra è la croce rossa in campo bianco che rappresenta le insegne del popolo fiorentino e segnala le cose pubbliche a Firenze successivamente si incontra il giglio fiorentino rosso in campo bianco attuale simbolo cittadino adottato dai guerfi ai tempi della cacciata dei ghibellini nel 1266 le chiavi d'oro in campo rosso e rappresenta la fedeltà verso il papato un altro simbolo rappresenta la signoria con la scritta libertas d'oro in campo azzurro motto della libertà e indipendenza cittadina la successiva aquila rossa in campo bianco che aggrinfia un drago verde e lo stemma della parte guerfa dopo il già citato ciglio bianco in campo rosso antico simbolo chibellino della città troviamo lo stemma del re di francia i tre gigli d'oro in campo azzurro di carlo e alberto d'angiò primi potestà stranieri della città l'ultimo stemma partito a fasce nere oro e gigli d'oro in campo azzurro e l'arma di ludovico d'angiò re d'ungheria il palazzo fortezza non è un genere di costruzione solo esclusivamente fiorentino in toscana si possono trovare costruzioni simili come il palazzo dei priori situato nel centro storico di volterra in provincia di pisa che è il più antico palazzo comunale toscano il palazzo è costruito interamente in pietra e la facciata è ingentilita da cornici marcapiano ed è coronata da merri a semicerchio realizzati probabilmente nel sedice la facciata poi è decorata con targhi di terracotta smaltate che rappresentano stemmi di famiglie fiorentine dal quindicesimo secolo volterra fu governata da commissari fiorentini essendo entrata nell'orbita della città gigliata la struttura è sormontata da una torre pentagonale a due ripiani merlati costruita intorno al XVI secolo e in seguito ricostruita nella sua parte terminale dopo il terremoto del 1846 la somiglianza tra il palazzo comunale di montepulciano e il palazzo della signoria di firenze è impressionante fu voluta personalmente da cosimo primo dei medici il piano terra è rivestito in bugnato mentre il resto della facciata è in travertino la merlatura del terrazzo è a merli guelfi dalla sua torre si può osservare uno splendido panorama le giornate limpide si possono vedere dal lato della val di ghiana le cime pre appenniniche perugia il sub basio il lago trasimeno con le sue isole e lago di montepulciano e di chiusi il palazzo pubblico di siena detto anche palazzo comunale è un edificio fatto costruire probabilmente tra il 1297 e il 1310 dal governo dei nove della repubblica di siena come propria sede tale funzione si riflette anche oggi come sede dell'amministrazione comunale oltre che del museo civico sorge sulla piazza del campo ed è affiancato dalla snella torre del mangia all'interno conserva capolavori del periodo d'oro dell'arte senese tra cui il celebre affresco dell'allegoria ed effetti del buono e del cattivo governo di Ambrogio Lorenzetti tra le rappresentazioni profane più significative del trecento europeo oltre a celebre opere come quella di simone martini guidoriccio da fogliano la facciata è composta da quattro ordini nel corpo centrale e tre ordini nelle due ali laterali nell'ordine inferiore si aprono una serie di arcate alcune inquadrano i portali e le altre inquadrano grandi finestroni in corrispondenza all'ingresso della torre troviamo una struttura a edicola l'ampia facciata del palazzo riflette i vari periodi di costruzione fino al primo ordine di trifore fu usata la pietra poi il laterizio le finestre nel tipico stile senese hanno tre archetti gotici affiancati appoggiati su colonnine mentre al centro di ciascuna ghiera tra gli archetti e l'arco acuto principale di ciascuna finestra è stata inserita la balzana bianca e nera simbolo della città di Siena il corpo centrale è realzato di un piano rispetto alle due ali laterali sulla sommità retto da una cornice di archetti pensili a pieno centro si presenta un coronamento merlato di tipo guelfo cioè senza l'estremità a coda di rondine nel corpo di sinistra accanto alla torre del mangia si trova il cortile del podestà decorato da antichi stemmi che fa anche da ingresso al palazzo e alla scalinata della torre il Duomo di Siena dedicato a Santa Maria Assunta è un superbo capolavoro in stile gotico italiano è stato costruito tra il 1215 e il 1263 sul sito di un edificio precedente la pianta del Duomo di Siena è accroceratina con trazzetto, cupola e campanile la lanterna sulla cupola fu aggiunta da Gian Lorenzo Bellini nel XVII secolo sia l'esterno che l'interno sono il marmo bianco e marmo verde nero a strisce alternate con l'aggiunta di marmo rosso nella facciata il bianco e il nero sono i colori simbolici della città e rimandano ai cavalli bianco e neri dei leggendari fondatori di Siena Segno e Aschio, figli di Remo la facciata del Duomo di Siena tutta in marmo bianco con qualche decorazione rosso di Siena e Serpentino di Prato è divisibile in due metà, inferiore e superiore riferibili a due distinte fasi costruttive la ricchezza della decorazione prevalentemente scultoria nasconde irregolarità e asimmetrie derivate dalla lunga fase costruttiva a cui mise in mano molteplici progettisti la facciata inferiore fu realizzata da Giovanni Pisano ed è riferibile a uno stile romanico-gotico di transizione questi vi lavorò tra il 1284 e il 1297 prima di allontanarsi improvvisamente dalla città di Siena probabilmente per le critiche poste dal comune per gli sprechi e la disorganizzazione il portale centrale ha un arco a tutto sesto quelle laterali leggermente ogivali Tre Gimberghe sormontano gli archi esse sono decorate da foglie rampanti e al centro recano dei busti, aggiunti però solo nel XVII secolo sulla sommità sono presenti delle statue rappresentanti angeli e una statua della Vergine alla quale il grande oculo sembra fare da aureola I torrioni laterali esterni sono tozzi e robusti alleggeriti solo da slanciate finestre Giovanni Pisano curò anche la decorazione scultoria e rappresenta un unicum nella scultura gotica italiana in quanto hanno un programma iconografico preciso dove tutte le figure volontariamente o involontariamente annunciano la venuta di Cristo tutte le statue sono coppie di originali conservate al Museo dell'Opera del Duomo La parte superiore della facciata è opera di Camaino di Crescentino che vi lavorò tra il 1299 circa e il 1317 Camaino di Crescentino detta la facciata l'odierno aspetto tricuspidale Un bellissimo oculo si apre al centro incorniciato da nicchie gotiche contenenti i busti di apostoli e profeti che rendono omaggio alla Madonna col bambino identificabile nella nicchia centrale superiore Ai lati i due pilastri incorniciano questa struttura e terminano in pinnacoli e quindi in sottilissime guglie accentuando lo slancio verso l'alto dell'edificio Naturalmente sono presenti due ordini di loggette mentre il tutto è sormontato da tre cuspidi dorate I tre mosaici dorati raffigurano da sinistra a destra la presentazione di Maria al Tempio l'incoronazione della Vergine e la Natività di Gesù L'ocolore che invece è una vetrata di Pastorino dei Pastorini metà del XVI secolo raffigurante l'ultima cena e visibile solo dall'interno Nel complesso la facciata superiore è in stile gotico fiorito Intorno ai primi anni del Trecento l'architetto senese Lorenzo Maitani iniziò i lavori per la facciata del Duomo di Orvieto visibilmente influenzata dalla facciata superiore senese All'interno Nicola Pisano realizzò il magnifico pulpito in marmo di Carrara tra il 1265 e il 1268 con la partecipazione del figlio Giovanni e i suoi assistenti tra i quali Arnolfo di Cambio Il pulpito è espressione dello stile gotico nordico adottato da Pisano e allo stesso tempo mostra influenze classiche e l'opera più antica presente nella cattedrale Nicola Pisano ricevette la commissione del pulpito in seguito alla fama ottenuta per il pulpito dal Duomo di Pisa L'opera realizzata per la cattedrale di Siena è ancora più ambiziosa ed è un vero e proprio capolavoro